L'azienda per il diritto agli studi universitari di Teramo ha avviato il progetto denominato Residenza Diffusa, una banca dati degli alloggi per gli studenti che verranno messi a disposizione dei proprietari di immobili nella città di Teramo, tramite il bando per la manifestazione di interesse. Per dare seguito a questa iniziativa, il CDA dell'Ads su Teramo ha trasformato lo sportello ricerca alloggi in una sorta di agenzia immobiliare gratuita per favorire l'incontro tra domanda e offerta. La legge non fornisce una definizione di Residenza Diffusa. Esistono delle prassi, degli esperimenti che sono stati fatti in passato, in Puglia per esempio o anche nelle Marche. La nostra azienda ha voluto sperimentare questo nuovo sistema, quindi non delineato da alcuna normativa, e il CDA presieduto dal dottor Vincenzo Di Giacinto ha approvato questa scheda che i singoli proprietari dovranno produrre per chiedere l'iscrizione nella banca dati della Residenza Diffusa. L'obiettivo qual è? Dare garanzia e sicurezza ai ragazzi offrendo degli immobili che siano valutati dall'azienda. I singoli contratti di locazione saranno comunque sottoscritti dagli studenti per consentire ai proprietari la possibilità di accedere al regime fiscale cedolare secca, che diversamente sarebbe escluso. L'azienda si fa carico di intervenire nel procedimento di formazione del contratto attraverso una valutazione degli immobili a cui vengono attribuiti dei punteggi, attraverso un'attività di controllo anche con sopralluoghi. e quindi vi è uno sviluppo rispetto allo sportello ricerca alloggi che era stato già attivato tanti anni fa e che sostanzialmente era una mera agenzia immobiliare gratuita che favoriva l'incontro tra domande e offerta, ma non interveniva nel procedimento di formazione del contratto. Questa quindi è la differenza. La residenza diffusa l'Azio la vuol considerare così perché si va da un lato a garantire l'interesse del proprietario, dall'altro a tutelare l'interesse degli studenti.